Cioè ma te stai a quadrare a quei bandiere? Ma chi è? Ma che mi rappresenta? Scusi ma lei chi è? Ma chi è lei? Eccolo, pure qua disturbi, scusa eh Io sto facendo un servizio sulle luci bellissime delle vie del corso a Roma a Natale 2014 messe dalla giunta marino Eccolo, no, 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 vedete, con luci? Eh, luci di Natale, che sono? Bellissime Eh, ma sono belle, eh, le bandiere, perché non ti piacciono? Guarda, preferivo che metteva le palle, quelle luminose che vendono da Ikea una volta ogni tanto Ma perché? A lei gli piacciono queste luci, signora? Eh, non gli piace quello che dice? No, gli piace quello che dico, ha detto il signore No, ma veramente, le sue bandiere, ma chi me rappresenta? Bello, eh, hai visto? Ma stiamo in Italia, qui tocca a Roma, qui tocca a mette bandiere a tricolore Allora mettimi una bella rupa, cari Vedi, alla gente piace, mica a te piace a te A te piace io? No, a te ti ha detto non mi piace quello che dici tu No, non mi piace quello che dici tu No, ha detto no Basta ripetere, scommetti 100 euro, la ganna mi ha discutito 100 euro, va bene, ok Vai, dammi la mano, andiamo in diretta con te Va bene, va bene Andiamo? No, no, ce l'ho registrata qua, poi la andiamo a risentire Allora, vai a vedere Certo Vabbè, chiudiamo un'ultima battuta Non mi piace, Marino, Marino, hai fatto un gran casino, beviti un clodino Mamma mia, non si può sentire